Prortone? Apri del Prortone! Apri del suo portone! La mia vita è la pittura. Se me la togliete, mi togliete la vita. I've been looking for someone like you. Sono proprio felice. I cuori si rifiutano nel tempo. No, è nostro. Permetto di osservare lo santo evangelo della Signora Nostra Jesucristo.